Venerdì sera c'è arrivato un messaggio su whatsapp che la scena aveva arrivato a parlare del giudice e sabato mattina un altro messaggio ai direttori che aveva arrivato dalla comunicazione da su che i negozi sono di così, ti trovi all'improvviso così, di punto in bianco, senza lavoro, senza stipendio in parte che già avancevamo dei soldi perché da prima della richiesta del concordato dopo il concordato che non ci ha pagato, ma quest'altro mese per le famiglie parecchie come me che sono monoreddito, una mazzata, adesso prendiamo il 10 di questo mese per non prendere lo stipendio e almeno quello, non sappiamo come fare, per far andare avanti per qualcuno, che il giudice decida il prima possibile di firmare la stessa cosa per farci per deliberarci gli ammortizzatori sociali in una probabile futura rendita.